Buonasera a tutti, benvenuti in Treccani all'Istituto, questa sera abbiamo la fortuna di parlare del libro Le figure per dirlo di Paola Pallottino che è qui al centro dei nostri ospiti e ne parleranno Giorgio Bacci, professore all'Università di Firenze di Storia dell'Arte, specialista della storia e illustrazione del Novecento e abbiamo Luciana Castellina che ci darà uno sguardo sul secolo di cui parliamo. Ecco, non ruberò altro tempo, lascio subito la parola a Giorgio Bacci. Bene, grazie e buonasera a tutti. Tanto devo dire che per me è davvero un onore essere qui e presentare questo bellissimo libro insieme a Paola Pallottino, Luciana Castellina e in questa magnifica cornice appunto della Treccani. È un libro complesso quello che ha scritto Paola Pallottino ma qui subito entriamo nel vivo di una caratteristica del testo, è scorrevolissimo, si legge in velocità perché la curiosità di scoprire da un lato la profondità artistica delle donne di cui parla Paola nel suo testo e dall'altro la storia che interseca continuamente le vicende delle diverse illustratrici coinvolge il lettore appunto fin dalla prima riga ed è un testo che spazia dal Seicento ai giorni nostri, ma in realtà anche prima perché partiamo da Vasari per arrivare poi alle sperimentazioni con il digitale dei giorni nostri. Quindi davvero è un'impresa improba quella che Paola Pallottino ha affrontato egregiamente nel testo. E il libro è strutturato anche in modo tale che sia possibile seguire diversi filoni contemporaneamente, nel senso che ci sono sempre delle introduzioni tematiche che appunto presentano al lettore i diversi ambiti cronologici anche di ricerca e quindi c'è un filo appunto che è quello della storia e poi ci sono delle singole schede che affrontano biografia per biografia le diverse illustratrici ed è anche un testo, e questo secondo me è importante, che è ottimamente stampato nel momento in cui si parla di illustrazione, avere un testo che rispecchia appunto la qualità dell'artista, dell'artista dal punto di vista editoriale appunto è fondamentale. Parleremo di vari aspetti, io inizierei da un punto che ho già in qualche modo introdotto con le prime parole, cioè il lavoro affascinante per cui nelle pagine appunto di questo libro la grande storia e le vicende di queste donne si intersecano continuamente con esiti a volte tragici come appunto la vicenda di Elsa Zamorani che tragicamente viene deportata a Auschwitz e lì appunto morirà dopo aver iniziato un percorso nell'illustrazione, in particolare si presume con Italia Ride che è uno dei più importanti periodici illustrati della prima metà del Novecento italiana. Forse potremmo iniziare da qui, cioè le diverse figure di illustratrici che hai affrontato e che si sono scontrate con la storia su diversi livelli. Allora, per quanto riguarda Elsa Zamorani, lì per lì non ho colto il nesso del cognome, solo quando, tra l'altro con una primissima, molti anni fa con una primissima notazione online perché non esisteva nulla di pubblicato su di lei, repertori sugli israeliti bolognesi perseguitati durante il secondo conflitto. Lei era la figlia di Amilcare Zamorani, grande patronne, creatore, diciamo meglio ricreatore del resto del Carlino, il quotidiano più diffuso a Bologna e in Emilia Romagna e dunque è da presumere, io poi ho recuperato una nipote di Elsa Zamorani, Elsa Zamorani viene portata prima a Fossoli insieme al figlio, lei aveva due figli, uno dei due figli era sposato con una ariana e poi non era presente quando loro sono stati catturati, per cui questo figlio Gino e lei vengono prima portati a Fossoli e poi ad Auschwitz dove scompaiono e attualmente ho saputo da questa nipote che sono state messe ad Ancona, dove loro avevano una casa, delle pietre d'inciampo per ricordare sia lei che il figlio Gino. Lei pare che abbia sempre disegnato ma non da un punto di vista professionale, anche se mi ha molto colpito e si può vedere nel libro, la firma che lei fa è una, tra l'altro la cosa singolare che appare questo Italia Ride di cui parlava il professor Bacci che è il primo giornale modernista apparso in Italia sulla scorta degli Jugend, dei Versacrum eccetera ed è singolare che in questa pubblicazione appaiano ben quattro donne di cui una è appunto Elsa Zamorani, delle altre tre un'altra è la fidanzata del curatore grafico Magliani del curatore grafico della rivista. La firma, dicevo, dell'Elsa Zamorani è molto professionale e farebbe pensare a un lavoro continuativo nell'ambito dell'immagine, dell'illustrazione. In realtà sembra che lei non abbia pubblicato da altre parti anche se la sua casa era piena di disegni. Ci sono moltissime vicende di illustratrici di cui non si hanno notizie biografiche o che sono state studiate pochissime, alcune delle quali di livello assoluto. Sto pensando ad esempio a Nelly Marchese, forse possiamo vedere un'immagine. Allora dico, aspetta, Marchese, ho qua il numerino, perché è stato fatto un lavoro magnifico dallo Stoffer. Ecco, eccolo qua, che è un artista di livello assoluto di cui appunto si sa pochissimo. Allora, fa parte insieme ad altre delle artiste che io naturalizzato italiane. In realtà, partiamo dal... Allora, lei sicuramente ha opere in Argentina, dove risulta avere insegnato, ma negli anni venti, al debutto degli anni venti, è in Italia attivissima presso numerose riviste. Non solo, ma quando poi lei torna a Buenos Aires e fa una mostra delle sue opere, la fa al circolo italiano. Per cui, a parte il nome... Voglio dire, il fatto di un nome italiano come Marchese non vuole dire molto perché c'erano moltissimi idolo americani che si trovavano in Argentina, ma è questo fatto che lei sia stata molti anni sicuramente qua in Italia e che poi abbia esposto al circolo italiano di Buenos Aires è molto interessante. Lei è un'insegnante e ha una ricchezza espressiva, una tavolozza espressiva, straordinaria, perché questa immagine che colpisce molto è un'immagine del 1920. È una copertina, tra l'altro io l'ho appaiata insieme a un'altra di Etulia Berardi, proprio come una sorta di autoaffermazione al femminile. La donna, insieme ad altre realtà, era uno di quei momenti cruciali per la crescita, per l'emancipazione della donna e che contribuì in maniera straordinaria. Si pensi che per la prima volta, nell'11 e nel 13, la donna organizza delle mostre al femminile estremamente significative e interessanti che consentono di vedere quello che abitualmente non si vedeva mai. Un ruolo fondamentale lo svolgono le riviste. Quest'immagine ad esempio è tratta dalla donna, appunto, che è una rivista fondata a Torino nel 1905 e nella prima metà del Novecento vengono fondate dei periodici fondamentali da Lidl a Sipari o a Scena Illustrata, le varie riviste collegate ai periodici, la Domenica del Corriere, il secolo ventesimo, la lettura, che costruiscono effettivamente un mondo parallelo, visivo, che prima non c'era e che invece irrompe in massa, diciamo, grazie a questi periodici. Uno di questi si chiama per l'appunto Vita Femminile, che è un periodico stupendo, anche di questo possiamo vedere un'immagine. Allora, è la Vera Dangara, mi fa. Sì, Vera Dangara, di cui invece, ad esempio, ci sono numerose notizie, una vita ricca di avvenimenti. Lei poi era un personaggio incredibile russa. Io mi ero presa delle diligenti note sulle varie artiste. Lei, di nome, ti avevo letto, ti ho letto 34? Dice sì, l'hai detto. Eccola. Allora, la Vera Dangara è Vera Nathansen Nankowski, nasce a Elisabeth Grad il 20 settembre del 1893 e muore a Milano nel 71. Dunque, lei è una attrice cinematografica per la quale Toddi, in realtà, Piersiglio Rivetta, che si firmava col nome di Enrico Toddi, crea la Toddi Film e le produce tre o quattro film. Poi la mette a disegnare. Per cui, nel periodo in cui lui è direttore del Travaso, lui era un personaggio incredibile, di cui Jack diceva ma non è vero per niente che sapeva il giapponese e il cinese, però lui era il grande esperto di giapponese e cinese. Mio marito lo conobbe una volta che doveva portare i disegni di suo padre a Toddi e aprì la porta a questo mino che aveva una caramella all'occhio e comunque fece disegnare la Vera anche come caricaturista sul Travaso. Parleremo magari dopo del settore della caricatura perché era un settore ritenuto maschile che invece poi si apre all'intervento delle donne illustratrici. Come è stato leggere e rapportarsi a un contesto in evoluzione da le immagini che catturano? Come è stato appunto leggere queste avventure di donne che riescono progressivamente ad affermarsi? Solo recentemente in effetti poi c'è una parità effettiva come giustamente Paola Pallottino dice nel testo. Ma io devo dire che la prima volta che ho scoperto che le donne si arrangiavano per poter dipingere, perché dipingere direttamente non era possibile, non era immaginabile, è a Venezia tantissimi anni fa che fu fatta un'esposizione, una mostra di antichi ricami merletti e da quelli che si vedevano che c'erano delle opere d'arte dentro ma erano fatte attraverso il ricamo per l'appunto. E questo mi colpì molto perché solo a quel momento ho capito che c'era questo arrangiamento delle donne per poterlo riuscire a fare. Io sono del mestiere, intendiamoci, però perché ho cominciato la mia vita pensando che avrei fatto il pittore, l'ho fatto per un po', poi ho lasciato perdere perché ho incontrato il Partito Comunista e mi ha, come se dire, mi ha travisato e però poi ho fatto il designer perché per bisogno di danaro, visto che le retribuzioni di funzionario del Partito Comunista non erano alte, quindi di notte ho fatto anch'io i disegni, facevo degli schizzi per un giornaletto di fumetti francese e poi ho fatto degli schizzi di moda addirittura sull'unità. Quindi la mia passione per questo libro è stata naturalmente molto più forte. Devo dire che io conosco tante, conoscevo tante donne pittrici ma assolutamente quelle immagini che ho visto, nessuna, questa, che abbiamo visto numero 34, mi pareva che si chiama in sé della Zaporani, è un quadro meraviglioso, meraviglioso, quindi attraverso questo arrangiamento, questo espediente, diciamo, dell'essere soltanto illustratrici si trova una grande pittura, solo che appunto le grandi pittrici sono note e queste no. E allora ho letto con molta curiosità, ho guardato con molta curiosità questo libro e come dire, quindi ne posso parlare come uno che l'ha per l'appunto scoperto, quindi come dire, parlo della mia esperienza leggendo questo libro, che cosa ho scoperto, parto dal mio vissuto, va bene, diciamo così. Ecco, e voglio dire subito una cosa, appunto dicevo, mi ha colpito questo fatto di conoscere tanti pittrici, fra l'altro proprio a Roma c'è stata una mostra di una pittrice di cui si sapeva poco, che era Tremilia Gentileschi, un anno fa mi pare che ci fosse, e poi tante, poi penso a tutti quanti, quello che c'è stato, mi ha colpito anche però perché neanche a proposito delle pittrici sapevo tutto, per esempio conoscevo bene la Morisol che ha avuto un importante ruolo durante l'impressionismo, ma non sapevo, c'è scritto nel libro, che a quell'epoca alle donne era proibito frequentare l'Accademia di Belle Arte e che quindi lei si è dovuta di nuovo arrangiare perché non ha potuto partecipare, veramente non mi ero mai immaginata, vabbè le donne pittrici sono poi tante eccetera. Devo dire che in prima persona ho avuto di nuovo un'emozione vedendo Il Vittorioso, perché io sono abbastanza vecchia di aver letto Il Vittorioso negli anni 30 e ho ritrovato questa cosa che per me è stata, non so perché leggevo Il Vittorioso invece che Il Corriere dei Piccoli, però Il Vittorioso era bellissimo e quando poi ero trovato i fumetti eccetera, ma lei mi farà delle domande quindi a scopo. Ha visto Paola Bologna, ossia Paola Bologna, prima donna che appare sul primo numero del Vittorioso con una sua storia fumettica. È una storia, una storia, la storia dei fumetti è particolare però perché, vabbè, innanzitutto diciamo subito, le donne pittrici si conoscono perché si dice il nome, no? È palese. Mentre quello delle illustratrici, io per esempio che nel Vittorioso avesse fatto dei disegni una donna non me lo sono mai immaginato, né ho avuto opportunità di conoscerle il nome e così è stata per le altre. Io i fumetti per esempio li ho conosciuti molto attraverso Linus, che è stata una grande cosa. Non mi sono mai posta il problema di chi li avesse disegnati. Linus aveva anche una parte scritta, quindi devo confessare che ci fu pure una polemica con Giorgio Napolitano. Non facemmo disegni né io né lui, ma però nella parte scritta ci fu dentro Linus. Però Linus era diretto per un lungo periodo da una donna, che fu via Serra, che poi è stata anche venuta mia amica, ma è lo stesso successo per il pioniero. Anche il pioniere era ignoro che facesse i disegni, ho scoperto delle cose qui, però la faceva Dina Rilaldi, che oltretutto stava nella stanza accanto del mio stesso ufficio, perché io dirigevo il settimanale della FGC, della Nazione Giovenile Comunista, Nuova Generazione, e lei dirigeva il pioniere e condividevamo un ufficio a via Napoli. E anche il pioniere è stato meraviglioso, perché è stato un giornale popolarissimo. All'inizio cominciò con una qualche diffidenza, perché insomma il disegno animato aveva origine americana, quindi in primi anni anche il Partito Comunista era dubbioso su questa trasposizione italiana, e poi però fu tanto popolare che fu addirittura inserito dentro nell'interno della distribuzione. Il pioniere poi me lo ricordo in modo particolare, perché il personaggio principale del pioniere era Atomino, ma Atomino era un bambino molto simpatico. Allora si pensava che la bomba, non si chiamava la bomba, ma che l'energia atomica, si diceva in pioniere, l'ho letto quante volte, avrebbe potuto portare le rose in Siberia, cambiare meglio il clima, fare una serie di cose, e poi con gli anni ho scoperto che Atomino era pericolosissimo, ma però è stato l'eroe di una stessa stagione. Io mi ero preparata degli appunti. Mi piaceva che le donne che lavoravano al pioniere, come io e tutte le donne che sono entrate in contatto con la Giulia Maffai, ma è scusate. No, assolutamente, questo vuol dire... Una delle tre figlie di Maffai... Ma Giulia Maffai, la Flora Capponi... Flora Capponi, di cui poi, capito, c'è questa storia, perché poi quando vai a scavare... Ma anche la Carla Rappacini... La Flora Capponi era la sorella di Carla Capponi, la partigiana. Certo, ma io la conoscevo in quanto sorella, non mi ero mai posta... E quando era giovane, sposò, con grande scandalo della famiglia, sposò giovanissima un ufficiale fascista. Dopodiché ci fu una separazione, per cui lei poi, nel suo necrologio, è ricordata dai partigiani di Belluno con un cognome di una persona che poi non credo che abbia mai sposato, da cui ha avuto una figlia... Delle storie veramente molto singolari. No, ma devo dire che io qui, poi di nuovo, leggendo questo libro, mi sono fatta l'autocritica molto spesso, perché la cosa tremenda è che io ho conosciuto bene tutte queste donne, ma non mi ero mai accorta che facessero questo lavoro, questo disegno, questa cosa. Perché non me lo chiedevo quando vedevo le illustrazioni di chi erano e non ho mai chiesto a loro cosa facevano. Sì, la ragazza non lo sapevo, ma era molto più recente. Quella è recente, voglio dire, sia la ragazza... Ma però, appunto, Flora Capponi lo conoscevo in quanto sorella di Carla, naturalmente. E anche la Maffai, tutte e due hanno fatto poi le scenografe, anzi, soprattutto le costumiste, direi. Sì, appunto. Che è un mestiere analogo sempre, ma insomma diverso in qualche modo. E appunto Giulia stessa non ho mai pensato cosa facesse in realtà. Se l'ho conosciuta che faceva customista, ma che avesse anche disegnato, devo dire che per l'appunto non mi era... Devo dire che poi io ho avuto molta poca frequentazione con le riviste femminili, perché da ragazzina pensavo che non fosse bello essere donna, anzi, che era bene nasconderlo il più possibile, quasi che fosse una colpa, no? Perché le donne erano sempre meno degli uomini, no? Un po' malaticce, un po' indigappate, un po'... Insomma, diversi. E quindi essere uomo era importante. Quindi mi sono mascherata da uomo sempre e leggevo per questo Salgari, e non i romanzi della Delì, perché si chiamavano i romanzi della Delì. E quindi le illustrazioni, queste meravigliose illustrazioni che ho visto nel libro, io le ho viste adesso e non le ho viste allora. Quindi, come dire... Ecco, ma non le avrebbe... Quelle soprattutto di... Ora va di moda dire Salgari, non le avrebbe mai potute vedere perché, come si è visto, loro erano assolutamente escluse dalla grande letteratura, dalla letteratura di avventura, una donna che abbia illustrato i promessi sposi... Sempre che la sia... Era un modo per arrangiarsi, come quelli che facevano i ricami nel Settecento. Pur di poter, in qualche modo, prendere uno strumento che poteva far disegnare, si sono arrangiate a fare questi appunto famosi mestieri minosi. E quindi io, appunto, intanto le riviste femminili non le ho mai viste, le ho scoperte... Anche se io poi sono finita a fare una rivista femminile, ma non c'aveva disegni, purtroppo, che erano i donne. Però, forse c'erano ancora, non me lo ricordo più, ma insomma, tanto è vero che quindi... No, c'erano delle cosette, ma poche... Sì, poche... Poche cose. Ma questa ballata di Tenko, questa ballata di Tenko, che tu citi, che è bellissima, ballata di Tenko che dice, che scopre che nelle riviste femminili si parla sempre di donne e non si parla di problemi, e Tenko dice bisogna alle donne non interessano problemi grandi. Ecco, volevo sapere, è una ballata di Tenko, Tenko, Tenko? È una ballata di Tenko, 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 però sbagliata, perché... Perché non è vero. Ossia, il fatto che lui scriva questa canzone dicendo che alle donne non interessano i grandi problemi, eccetera, eccetera... Ma si interessano di se stesse, che non è mica... Da poco, perché interessarsi di se stesso per le donne non è come per gli uomini che si interessano di se stesso, significa interessarsi di un essere umano che ha bisogno di occuparsi di se stesso perché la propria condizione di donna è una grande questione politica. Quindi la cosa di Tenko è proprio una cosa così, però appunto ero curiosa di sapere... No, no, era una vera ballata di Tenko in metà degli anni Sessanta, mi pare. Scusate. Un aspetto interessante è anche quello di illustratrici che sono appunto valorizzate sullo sfondo di parentelle che potrebbero essere ingombranti, no? Sto pensando ad esempio a Benedetta K. Marinetti oppure Rosetta Tofano e ce ne sono diverse che Adriana Bisi Fabri che è un eccezionale caricaturista anche qui ci... Sì, Adriana Bisi Fabri 39 39 Ecco, tra l'altro l'esposizione d'arte umoristica appunto è l'immagine che è riprodotta anche nel volume che è doppiamente interessante perché da un lato apre al filone delle esposizioni che accolgono anche appunto le illustratrici 1913 e 1910 1913 sono date importanti appunto per l'illustrazione e appunto quello che fai nel testo è proprio di dare degli approfondimenti stilistici e di riflettere anche sul ruolo sociale della caricatura e dell'illustrazione Meglio di te non può dirla nessuno apponda apponda sulla donna caricaturista effettivamente allora credo che questo questo manifesto appunto che noi vediamo dedicato all'esposizione d'arte umoristica sia particolarmente significativo perché gioca su questo bilanciamento attento della linea guizzante e aspra anche per certi versi e insieme sullo sfondo cromatico uniforme appunto questo rosso che salta fuori e che serve a bilanciare la composizione cioè quello che emerge è la sapienza proprio artistica di queste di queste illustratrici che a volte sono state messe in secondo piano rispetto appunto a ai colleghi uomini un'altra ad esempio illustratrice eccezionale secondo me è Rosetta Tofano di cui pure possiamo vedere delle immagini se non sbaglio dovrebbe esserci scusate questo fatto dei colleghi forse l'amministra Rosetta forse a Cavallari sì 27 lei certo è una vittima lei è una vittima dell'eleganza di Sto esistono allora all'epoca Sto faceva queste questo repertorio boulevardier che portava in Sud America ci sono delle foto assolutamente Fitzgeraldiane di Sergio Tofano e Rosetta che sembrano Zelda e Fitzgerald mentre stanno con le mazze con le mazze da golf in Argentina in una in una visione estremamente estremamente elegante eccetera ora io tra l'altro frequentavo all'epoca l'Accademia di Arte Drammatica quando un giorno si seppe che uno dei tre insegnanti che erano Tofano la Capodaglio e la non me la ricordo non mi ricordo il nome Rosetta si era appena suicidata tutti dissero che si era suicidata perché comunque lei già soffriva di vari problemi eccetera in realtà io ho il fondato sospetto che vivere accanto a un genio come Sergio Tofano che addirittura l'avevano invitato a lavorare al Vanity Fair eccetera ma lui era un capocomico per cui comunque lui recitava che si è inventato Buonaventura che ha avuto successo in ogni ambito che ha frequentato fosse una vita molto difficile Rosetta ha fatto la costumista Rosetta ha illustrato dei libri ma poi illustrava dei libri con Il Buonaventura di Sergio Tofano eccetera e dopo che è morta lui le ha dedicato un libro intitolato Rosetta e pare che le abbia scritto una lettera al giorno io mi sono detta che forse era meglio che scriveva prima non dopo così come l'immagine di riferimento era tratta da un'altra rivista tra l'altro che era Scenario invece un altro periodico fondamentale e qui la cosa appunto affascinante secondo me è che i diversi piani poi si uniscono sempre non si passa da un'ottica più generale a un'ottica più particolare con questi affondi appunto singoli sulle illustratrici un altro periodico fondamentale è la Lidl che ha cambiato un po' anche la scena dell'illustrazione italiana e dove l'apporto delle donne illustratrici è stato fondamentale allora Lidl nasce come di tutte le c'è tutta una pubblicistica al femminile da vita femminile Cordelia che era una rivista che esisteva da prima la donna che lui ha citato e che tra l'altro la donna riprendeva il nome di un'altra rivista la donna della fine dell'ottocento che era una rivista destinata proprio all'emancipazione della donna e dunque di tutte queste riviste la nascita di Lidl nel 19 è immediatamente vissuta tra l'altro questo nome Lidl la direttrice era Lida D'Oseo dell'Iguoro perciò si vede l'assonanza ed era mi pare lavoro eleganze eccetera eccetera aveva letture illustrazioni aveva un sottotitolo ed era chiaramente destinata alla donna altoborghese aristocratica per cui schidionate di reportage di grandi matrimoni fra la contessina tra dei tale e la figlia del sottosegretario tra l'altro eccetera con notizie ma contemporaneamente anche contributi letterari e iconografici di grande spessore non mi ha fatto impressione a me mi ha fatto molta impressione pensare che riviste come quelle non ci sono più cioè illustrate decorate come quelle sono ognuno un'opera d'arte non ci sono più non esistono più tutte brutte tutte con le scritture basta non un'immagine non un disegno credo solo per una perdita di memoria storica ossia se tu non conosci non hai parametri non puoi dire questo è bello questo è brutto pensiamo ai ristoranti tutti io sono pieno di amici che dicono ho scoperto un ristorante guarda una cosa meravigliore poi vai a mangiare è ugualio perché perché non hanno il palato addestrato a conoscere cos'è l'alta cucina cos'è la cucina di qualità e perché parlo poi della zona da dove provengo sia a Bologna dove così quando senti proprio il colesterolo che ti corre per le arterie senti di aver mangiato bene probabilmente qui ci ricolleghiamo anche a un dibattito di lunga data che è quello relativo alla competizione chiamiamola così tra fotografia e illustrazione che ha cambiato radicalmente poi i termini del storico-artistici e qui ci riallacciamo anche alla problematica neorealista ad esempio riproduci nel libro un bel manifesto di Anna Salvatore dedicata a Cattone che forse possiamo vedere Salvatore 97 allora questa è del 61 se non erro Pasolini commissionò a diversi artisti sicuramente a Maccari a Cagli e non so a chi altro oltre ad Anna Salvatore un manifesto per a Cattone questo io ne ho visti altri due e in assoluto questo secondo me è il più bello il più forte ed è probabilmente direte un tardo neorealismo come probabilmente è un tardo neorealismo anche anche il film ma certamente qui si concentra tutta tutta la poetica di Anna Salvatore che è una donna che poi sposò Pasquale Festa Campanile e che non ha vissuto tanto e che si è frequentemente raffigurata lei si faceva una gran quantità di autoritratti con questi capelli neri sciolti eccetera che qui rivediamo in questa figura femminile non ha vissuto molto ma una aveva una un forte senso del sé lei la ricorderà Anna Salvatore con queste sue performance si faceva fotografare nuda si faceva faceva dei libri e delle rassegne in cui lei era centrale non è vissuta molto ma questo è un documento di sicura qualità è bellissimo è bellissimo però a me mi devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è la straordinaria produzione dei libri per bambini e tanto che questo mi fa venire un moto di rabbia perché perché le donne fanno i libri dei bambini ma perché i bambini fare i bambini in fondo è una cosa secondaria e uno avrebbe voglia di dire ma guarda se non facessimo i bambini chissà che cosa sareste voi poveretti invece non li potete fare quindi voglio dire però vengono considerati un'arte minore anche i bambini e per questo sono le donne che illustrano il libro dei bambini insomma una cosa dal punto di vista della questione femminile scandalosa in questo senso e questi libri con i bambini per i bambini sono ed è strano perché l'unico tipo di libro che ancora ha delle illustrazioni straordinarie oggi sono i libri per bambini e fra l'altro è l'unica editoria che tira e poi le edizioni di libri per bambini sono meravigliose tuttora magnificamente illustrate mentre qualsiasi altro è una specie di come dire di rivincita delle donne nel senso che poi sono rimaste soltanto loro perché insomma i libri bambini sono rimasti in appannaggio perché i bambini come nota appartengono solo alle donne e quindi che così ma questo perché non ci sono io vorrei porre la domanda invece perché non si fanno più i libri illustrati illustrati decorati non è che l'editoria fosse più ricca allora di quanto non è oggi certo perché il libro adesso è diventato di massa eccetera però non c'è quasi più nessuna edizione qui le donne in effetti giocano un ruolo fondamentale perché scorrendo la parte finale diciamo la seconda parte del libro vediamo come questo come questo settore sia stato rinnovato e ha bevuto diciamo nuova linfa vitale proprio da una serie di iniziative al femminile diciamo da Rossellina Archinto con con le M edizioni siamo nel 1966 con Iela Mari altra illustratrice fondamentale ma ancora Fata Track con Raini Edizioni per avvicinarsi a noi oppure un'altra artista ancora straordinaria che è Chiara Rapaccini che è stata appunto la moglie anche di Mario Monicelli oppure Orecchio Cerbo forse potremmo dedicare proprio qualche parola in più a Iela Mari anche considerando il periodo dell'attività appunto anni 60 70 a questo ruolo delle donne che Iela Mari va un po' a scompaginare no? Allora intanto diciamo che la nascita delle M edizioni che in qualche modo coincide con la nascita della Fiera del Libro per ragazzi di Bologna è criminalmente secondo me definita ora Children Books ma di che? Voglio dire la Bookmesse la Bookmesse a Francoforte ha un nome tedesco noi avevamo tanto bene il bel nome italiano di Fiera del Libro per ragazzi non ho capito perché abbiamo dovuto anglicizzarlo per essere internazionali insomma è il solito vizio vizio italiano nasce la Fiera del Libro per ragazzi e contemporaneamente esplode questa meravigliosa iniziativa di una donna colta e raffinata che tra l'altro aveva fatto esperienze di editoria negli Stati Uniti che è Rosellina Archinto la quale anziché aprire una boutique come le sue colleghe si inventa questa casa editrice nella quale chiama subito il fiorfiore degli artisti sul mercato che lei conosceva benissimo dagli Onni a tanti altri e tra le prime donne c'è Eiela Mari che poi il suo che lei prende il cognome dal marito da Enzo Mari che è designer creatore creatore di giochi a incastro comunque all'interno di una visione assolutamente moderna e rinnovata nei confronti dei bambini non di dare il pulcino pippa al bambino ma di studiare qualche cosa che veramente possa coinvolgerlo interessarlo stimolarlo eccetera e nascono così questi questi libri i primi vengono firmati anche insieme ad Enzo Mari questi libri come il palloncino rosso che sono di una raffinatezza grafica straordinaria possiamo vedere questo dunque Mari dove sei ecco perfetto riuscite a vedere quell'immagine in nero allora questa è un'immagine di straordinaria eleganza in cui lei disegna il profilo del bambino che sta soffiando il palloncino il quale poi cresce poi diventa tante cose una farfalla un fiore eccetera usando soltanto il colore rosso per l'immagine che cambia e questo profilo di nero per il bambino ed altri particolari questa come altre creazioni delle M edizioni fa sì che io nel libro dedico un capitolo a queste eroiche editrici intitolato piccole editrici crescono perché dopo la straordinaria esperienza delle M edizioni pensate la difficoltà nel mondo nell'editoria generalista eccetera e nascono tutta una serie di case editrici da Orecchia Cerbo topi pittori cartuse eccetera che sono prevalentemente o in coppia o quasi in assoluto create da donne anche lì su questa cosa vorrei chiedere a Rosalina Archinto perché prima ha fatto i libri di bambini con queste meravigliose illustrazioni poi ha fatto quello per i grandi e illustrazioni non ce ne sono più perché allora intanto lei accanto ai libri illustrati per bambini ha creato una collana di riflessioni pedagogiche eccetera molto interessante e poi dopo no poi dopo ha fatto questa rivista leggere e poi la serie di carteggi molto affascinanti eccetera dove in effetti non c'era non c'era l'illustrazione però la decorazione nel libro è diverso che l'illustrazione certo la decorazione dovrebbe esserci in tutti i libri voglio dire ma invece poi è bello perché ci sono degli autori che odiano le illustrazioni molti autori ci sono delle delle storie affascinanti per esempio non so del rapporto di De Amicis con Treves che pubblicava le sue opere ed è pazzesco pensare come De Amicis definisse le opere illustrate e diceva oltre al fatto della mia percentuale e parlava di Danè diceva ti pregherei di mandarmi da tenere in salotto sul tavolino per farle vedere due o tre di quelle tue opere tutte con quei disegni capito questa era la visione visto che appunto hai nominato Treves viene spontaneo collegarsi a Sophie Brownie che è un'altra illustratrice importante che tra l'altro abita nello stesso nella stessa città nel stesso paese di Ferraguti per un periodo Ferraguti è l'illustratore di punta per lunghi anni appunto di Treves illustrando tra l'altro diverse opere di amici se anche di lei ci sono tutto sommato poche notizie no? No diciamo che Sophie Brownie si sanno le cose essenziali anzi è una delle poche il cui percorso perché poi lei ha fatto fondamentalmente la pittrice il cui percorso dell'essere venuta in Italia avere studiato presso Ferraguti e poi avere sposato un aristocratico poi nasce loro si risiedono in una villa che diventa in qualche modo un luogo dove vengono ospitati artisti eccetera come era poi la moda dell'epoca no di lei si sa non ci sono ci sono più opere di pittura che di illustrazioni all'infuori del Cordelia che poi la cosa singolare è che Ferraguti viene perché poi anche lì c'è questo gioco a cui tu accennavi prima della fotografia e pittura lui viene rimproverato viene rimproverato da Vittorio Picca di usare troppo dice se poi questo Ferraguti non usasse tanto la fotografia che in realtà è molto interessante perché se uno va a vedere opere stupende secondo me di Ferraguti come sull'oceano che ripercorre il viaggio il viaggio dall'Italia agli Stati Uniti in una nave dove lui indaga la parte superiore del ponte dove stanno i viaggiatori e poi la parte inferiore dove ci sono tutti i poveri emigranti che stanno andando in America e lui si vede benissimo come rilegge la fotografia ci sono immagini che senza la fotografia non si sarebbero potute concepire e la Sophie Brown in effetti ha alcune figure della Cordelia che tendono a queste soluzioni che sono poi soluzioni luministiche sostanzialmente come poteva darne la fotografia si si intendeva appunto di illustrazioni che poi sostanzialmente non porta avanti questo filone rispetto appunto alla pittura un'altra figura interessante è quella di Gugu ripensando prima di Gugu si si che è la 90 ripensando al discorso che facevamo relativamente all'illustrazione per l'infanzia però anche un ruolo imprenditoriale di fatto che svolge Gugu è anche benefattrice promotrice lei stessa di varie iniziative appunto benefiche ed è anche una figura in grado di collegare il contesto italiano a quello internazionale come ci racconti appunto nel libro allora Maria Augusta Rasponi del sale soprannominata Gugu unica figlia del conte Lucio che si non si può usare la parola ma insomma così che profonde tutto il suo patrimonio per l'infanzia abbandonata lei è una benefattrice è una è una persona che si dedica dedica tutta la sua vita all'infanzia abbandonata timidissima non prende lezioni di disegno ma disegna continuamente autoraffigurandosi come un'ochetta nel 14 scrive un libro nel 14 lei vedeva durante durante la prima guerra vedendo poi che cosa stava succedendo ai bambini ai bambini di madri malnutrite che morivano come mosche lei era una propugnatrice dell'allattamento artificiale perché questi bambini potessero sopravvivere e stranamente prima di cominciare quella che sarà la sua carriera di illustratrice presso Bemporad per esempio lei scrive queste lettere al Beppino il Beppino per i lettori del giornalino della domenica era uno dei figli di Vamba il giornalista Luigi Bertelli direttore creatore del giornalino della domenica allora scrive queste lettere al Beppino di Vamba tutte scritte a mano e decorate con tutta una serie di personaggi di cui lei narrava dentro le lettere poi scrive anche il libro delle ocche e lei oltre a tutto vince perfino un concorso per il miglior libro sulla sulla nutrizione sul miglior modo di nutrire i bambini eccetera perché era appassionatissima poi un giorno un bambino le tira un sasso e le toglie un occhio ma lei prosegue e lei pigliava questi bambini e li portava in treno li portava nel vagone ristorante dove c'era qualche cosa di simile per farli essere felici almeno per un certo periodo poi li sistemava da varie parti ed era a Ravenna soprannominata San Francesco in sottana ossia San Francesco vestito vestito da donna e però restano oltre a tutti questi materiali che adesso cominciano a ristudiarli sulle ocche sulle varie raffigurazioni eccetera degli albi stupendi che lei pubblica all'estero incredibilmente come diceva professor Bacci collegandosi collegandosi con un fuori che soltanto alla fine diciamo così che soltanto al debutto degli anni 2000 alla fine del 900 cominciano a godere le illustratifiche italiane lei pubblica con rascette lei pubblica con con editori inglesi delle cose molto belle di cui l'abbiamo vista sta 90 ecco questo è Touloury ed è una delle immagini vedete già questo è del è veramente a cavallo fino all'ottocento 1900 1901 una cosa pubblicata con grande splendore editoriale da queste case editrici straniere che chissà come lei aveva raggiunto l'avevano cercata perché lei appunto era molto timide sempre a cavallo tra Italia e Francia in questo caso è Leontina Indelli Leontina Indelli è una storia straordinaria è la prima donna a firmare un cortometraggio nel 1935 ed è lei che fa incontrare Milcol e Georges Mélié e anche di questa possiamo c'è già l'immagine la Mimma Indelli è una donna pioniera che fa di ogni comincia con comincia con i fumetti prosegue facendo disegni per cinema d'animazione si reca in Francia dove crea questo io non mi ricordo se questo qua è inedito o è stato poi proiettato in ogni caso poi conosce un giovane operatore sposa questo giovane operatore progettano di fare un meraviglioso film d'animazione quello che insomma abbiamo fino a qualche anno fa chiamato il cartone animato producono qualche cosa come duemila disegni ma tutto va allegramente a fuoco come spesso accade in queste in queste nobili imprese fatto sta che lei non si perde d'animo si ricicla come pittrice e comincia a esporre negli Stati Uniti in Italia in Europa eccetera dopodiché non paga lei diventa una una provetta essendo una forte nuotatrice una provetta una provetta sportiva che affrontava le profondità eccetera vincendo anche premi eccetera tra l'altro un figlio che faceva la stessa cosa muore allegramente nel frattempo in una in una immersione e lei fino a tardissima età vediamo in Delhi dove dove ce l'ho ho preso nota ho preso nota delle delle date lei vive una una lunga vita facendo di tutto di più veramente una impavida e questo disegno mostra questo è del 38 mostra molto bene come lei fosse perfettamente al corrente di quello che si andava producendo in questo ambito in tutta Europa non solo non solo in Italia dove abbiamo messo Vendelli non so se abbiamo fatto forse troppo tardi nessuno ci dice niente c'era stata data un orario le avevano detto un orario? no no un approfondimento lo merita anche grazie a Nidasio visto che abbiamo nominato Paola Paola Bologna grazie a Nidasio 76 scomparsa purtroppo che è una figura importantissima nell'ambito della storia illustrazione ma non solo perché in effetti la sua volontà anche di istruire il pubblico era particolarmente evidente era uno dei suoi obiettivi di cui avevamo parlato anche recentemente quando avevo avuto occasione di incontrarla ed è un un trait d'union direi anche tra diversi modi di intendere l'illustrazione è probabilmente l'illustratrice che porta il fumetto nella contemporaneità no scusa allora diciamo che a grazie a Nidasio dobbiamo la meravigliosa Valentina Melaverde che ha puntata sul Corriere dei Piccoli così faceva conoscere quelli che erano così i momenti delle giovanissime delle adolescenti fatta seguire poi dalla sorellina Stefi altrettanto illuminante sia sul periodo sia su quelle che potevano essere le istanze di una bambina piccola in questo caso noi la vediamo queste sono immagini pubblicate negli anni Ottanta in una carrellata intitolata I grandi amori questa è una pagina di Jacqueline e Onassis una pagina come vedete assolutamente al vetriolo in cui lei coglie con una acutezza una perfidia e una mano straordinaria da grandissimo da grandissima caricaturista questa poi è una delle pagine e lei affronta tutto Edoardo e Valli piuttosto le fu proibito soltanto di fare una madre Teresa non di Calcutta ma che l'editore non non volle pubblicare ma ci sono dentro così lo sbeffeggiamento di questi grandi amori di cui tutta la letteratura di tutta la pubblicistica femminista si appassiona un'altra cosa che mi fa impressione delle donne è la loro versatilità perché fanno un sacco di cose che gli uomini non hanno mai fatto vabbè il fumetto si l'hanno fatto ma per esempio gli oggetti i fantocci i pupazzi cioè si applicano a tutto sempre perché sono le arti minori quindi naturalmente però questo anche qui colpisce perché c'è dietro sempre la storia dell'arrangiarsi insomma in qualche modo per esprimersi faccio i pupazzi faccio degli oggetti anche perché quando lo fanno non è ancora nato Enzo Mari con il design e che quindi assorge ad un valore artistico ma molto più tardi molto recentemente invece parole parole sante nel senso che la Adri Adriana Bisifabri che abbiamo visto prima abbiamo visto prima che era cugina di Boccioni Petrice eccetera stroncata dalla spagnola giovanissima lei disegna giocattoli crea cose per arredamento ma questo quello che lei chiama arrangiarsi che trovo un termine veramente delizioso è un modo per in qualche modo far uscire la forza creatrice non a caso si dedicavano alla cucina tutti gli sbocchi la cucina e il ricamo lei ha esordito parlando appunto del ricamo ma noi abbiamo opere nelle tardogotiche primo rinascimento arazzi ricami di una bellezza di uno splendore che quando si dice non esiste il Mozart donna o il Raffaello donna ragazzi ma quando uno ha la cintura di castità nel cervello perché tutto le è proibito a meno di non essere o figlia o moglie o sorella o amante o in qualche modo trasgressiva non c'erano strade non c'era modo non c'era possibilità perché sappiamo benissimo voglio dire che Mozart mangiava con la servitura ragazzi quando andava quando andava a suonare presso le grandi famiglie dove potevano trovare sbocco chi osava dare sbocco alla creatività femminile per cui ci sono avuti anni 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 è soltanto questa è una ricchezza è un'arrangiatza e poi produce una ricchezza straordinaria perché poi tutte queste cose sono poi la pubblicità questo non lo sapevo che le donne avessero fatto la pubblicità e ci sono queste immagini della pubblicità di Barilla di non mi ricordo più che cosa ancora ma tante straordinarie ma tante la mia anche lì con delle cose di pubblicità che uno si mette a piangere perché se uno pensa alla pubblicità oggi è la televisione si viene male no? invece ci sono queste cose di pubblicità meravigliose che io ho visto anche delle cose familiari bellissime fatte a Trieste Modiano legate a Modiano che erano i miei cugini che sono hanno fatto anche un libro ma esiste un'opera sulla pubblicità a Modiano una raccolta esiste com'è? esiste una raccolta dei materiali l'ha fatta la cassa di risparmio di Gorizia insomma una pubblicazione di una banca in cui sono raccolte tutte le pubblicità del Modiano meravigliose dalla fine dell'Ottocento fino alla fine degli anni Venti insomma bellissime catturare catturare poi dopo di che la pubblicità se lo trovo glielo faccio vedere ce l'ho a casa ma devo trovarlo è molto bello Castellina lo voglio adesso non so se c'erano donne o no però me l'hanno fatto rivenire in mente queste immagini delle barilla e non mi ricordo più l'altro comunque Brunetta Madeldi ha fatto le calze Sissi ha fatto il profumo di VM ossia voglio dire qualsiasi repertorio di manifesti mostra come ci fossero moltissime donne attive nell'ambito pubblicità poi non soltanto quelle che hanno fatto manifesti ma anche quelle che hanno fatto semplici locandine si le cose ma viene male a pensare quanto è brutta la pubblicità adesso tanto perché è filmica quasi tutto è filmica film no televisione pellicola insomma non c'è più quella brutta e anche figurini di moda Maria Pezzi ad esempio la moda regge la moda regge un altro filone che è rappresentato nel libro di cui non abbiamo parlato ed è appunto il modello Missoni che ci viene presentato nel libro Maria Pezzi è la numero 82 82 questa è l'ultima opera della Pezzi fatta per una presentazione di Missoni con grande grande sfarzo chi era Zuffi che mi pare che aveva organizzato questa cosa c'è da dire che nell'ambito della moda si esercitano vari si esercita un ventaglio di raffigurazioni che vanno dal primo schizzo dello stilista che poi viene tradotto viene tradotto proprio meccanicamente geometricamente in disegni uno a uno che sono quelli da sartoria eccetera ma c'è un aspetto molto affascinante che è quello della traduzione del modello per la volgarizzazione nelle riviste di moda eccetera quelle dove le sartine d'antanco piavano il modello di Parigi eccetera lo rifacevano per le loro clienti fino ai bozzetti che circolavano negli atelier dei grandi couturier eccetera dove venivano mostrate queste immagini assolutamente desideranti dei nuovi modelli che venivano presentati poiché non sempre la cliente poteva avere la sfilata a parte i periodi delle grandi sfilate eccetera spesso andava nell'atelier di moda eccetera e le facevano vedere una serie di disegni particolarmente suggestivi e affascinanti dei modelli che avrebbe potuto trovare all'interno dell'atelier grazie grazie